Sindaco, potremmo fare una domanda? Che cosa ha indotto il sindaco di una città medagliadora a ricollocare una statua che onora Umberto I, responsabile dell'ecidio del 1898 a Milano? Ma che cosa le è voluti in mente? Ma si rende conto che cosa ha fatto? Mi rendo conto che lei vede la storia nel senso che quello che ha avvenuto nel passato va negato. Lei non sa la storia. Lei non sa la storia. È ora di finirla, di togliere o mettere monumenti in base al governo che al governo. Lei si vergogna. Non mi piace, lei è vergognata come sindaco della città medagliadora. Ma puoi scherzare, non conosci tutto.